La storyline della Retribution prende una piega inaspettata. Infatti, durante l'ultima puntata di Raw, Mustafa Ali, inizialmente alleatosi con l'Heart Business per combattere proprio gli individui mascherati, ha rivelato in realtà di essere il capo di questi ribelli che negli ultimi mesi hanno terrorizzato sia SmackDown che Raw, più Raw però, diciamolo. Poi ok, forse terrorizzato è un'esagerazione, perché sostanzialmente hanno fatto un po' di casino, hanno distrutto un po' di materiale, hanno attaccato qualche superstar qua e là, ma non è che abbiano poi creato chissà quale marasma generale che ha portato leggende a tornare per difendere il prodotto e sarebbe un'ottima storyline, magari la faranno, chi lo sa, o anche solo i main eventer, perché gente come Drew McIntyre, Horton o dall'altra parte Bray Wyatt o Strowman non sono stati mai toccati, o forse se è successo è stato qualcosa di minimo. Quindi questo vuol dire che sono una stable di conigli? Assolutamente sì. Però questo twist mi piace, soprattutto se verrà collegato alla vecchia storyline dell'hacker di SmackDown che grossomodo si è interrotta proprio con l'inizio di quella della Retribution. Forse sono stati cambiati i piani per Mustafali, ma la cosa più intelligente da fare, se fossi un writer della WWE o se fossi Vince McMahon, sarebbe prendere un aereo e andare in pensione e non lavorare mai più per tutto il resto della mia vita, con tutti i soldi che ho. No, non è vero, parlavo di WWE. Sarebbe collegare proprio il pirata informatico alla Retribution. Cioè il pirata informatico che avvisa il roster di SmackDown, cerca di smascherare le varie gabole che compongono le finte amicizie o ciò che accade nel backstage e una volta che trova degli scagnozzi lascia stare gli attacchi informatici e passa agli attacchi fisici e bellici o bellicosi. Vabbè, comunque alla violenza e wow, cioè se veramente metteranno in piedi questo piano mi stupirebbero perché non è una cosa che solitamente fanno pianificare a lungo termine e soprattutto mi gaserebbe non poco perché già con questo turn-heel di Ali o Ali, diciamo che il pepino si è rizzato un pochino. Soprattutto col suo vocione profondo quando ha ordinato agli scagnozzi a T-Bone, T-Bar e Slapjack, Jason e Bane o Predator di andare a prendersi le ossa del leur business. C'è un semplice ordine che però ha avuto il suo effetto, che poi la cosa non abbia un minimo senso perché la Retribution ora è effettivamente sotto contratto con quelli che vorrebbero distruggere, cioè quei poteri forti contro cui sono sempre andati prima di ottenere appunto il primo match e quel pezzo di carta firmato. Lo capisco, è molto illogico e che poi Mustafa Ali, perché dovrebbe diventare un hacker in cerca di verità quando praticamente era un passo dall'avere un match titolato prima dell'infortuno che poi ha dato il via a Coffee Mania? Non riesco a spiegarmelo! Ma vabbè, vabbè, cerchiamo di prendere quello di buono che ci viene proposto perché l'ultima puntata dello Show Rosso è stata ottima e vediamo come si evolveranno le cose. Credo che sia tutto in funzione di Survivor Series e ho paura che a Survivor Series la Retribution verrà sposciata, distrutta e abbandonata come il primo Nexus! No dai, non così brutalmente per favore. Purtroppo il profilo dell'hacker è stato messo da parte, cos'era dopo Money in the Bank forse, in cui c'è stato l'ultimo promo dove aveva 40.000 schermi e guardava il WWE Network, ok? E poi l'ex membro del brand viola di 205 Live è stato spostato senza una reale motivazione a Raw. Adesso sappiamo che la motivazione probabilmente era questa. E è leader, è leader, wow! Ora, in realtà ho qualche punto di domanda in testa perché non ho idea di quanto carisma possa esprimere questo performer, ma non sto dicendo che non ne abbia, ma proprio non so le sue doti quali siano al microfono perché raramente si è messo a parlare, forse nelle sue parentesi, come ho detto prima, a 205. Ma non l'ho mai seguito con grande interesse quello Show, scusatemi i pesi leggeri, siete bravissimi, però me ne frega particolarmente. Mi prendeva troppo tempo. Certo è che i piani, a meno che vogliano lanciare l'Earth Business all'apice della card, all'apice della WWE, dando titoli di qua e titoli di là, Bobby Lesch li campioni nel mondo contro Brock Lesnar avreste il me... no, no, ma vabbè, Mustafa Ali è passato da lottare a main event senza un vero scopo all'essere leader della stable di punta del brand del lunedinotte. E chissà se avrà addirittura il main event di uno dei big four, ovvero il pay per view di novembre Survivor Series. A confermare tale sospetto, ovvero che le storyline di Hacker e Retribution siano collegate, è stato l'account ufficiale della WWE, però per quanto riguarda Fox, quindi WWE on Fox, che su Twitter ha scritto uno spoilerone praticamente. Infatti ha scritto Ali WWE with the Retribution Hack, che tradotto in italiano non saprei tradurlo, ma vabbè. E quindi questo conferma appunto molti dei miei sospetti. Cioè sarebbe una figata, un twist figo, anche se come ho detto prima, le fondamenta della Retribution non hanno molto senso. Però anche qui potresti svoltare con un twist dicendo Ali è una talpa, è sempre stato sotto contratto con la WWE, quindi ha deciso di distruggerla dall'interno inventandosi tutto questo per un piano malefico che lo porterà a... non lo so a cosa, sinceramente. C'è tanto su cui speculare e che potrebbe far prendere un twist interessante alla Retribution. Ho già detto twist, non lo so, ho in mente il gelato, quindi mi viene twist. Alla fine gli outfit, cioè cappuccio nero, faccia mascherata, sono molto simili tra Hacker e Retribution. Il messaggio del nerdino era quello di voler portare verità, che non mi sembra tanto in linea col caos che vuole scatenare la Retribution contro i poteri forti della World Wrestling Entertainment, contro la casta, ma in qualche modo riesce a intrecciarli. Dai, fondamentalmente sono due personaggi dei personaggi ribellini e paxerelli, e non è difficile secondo me trovare uno scopo comune. Ma rimane ancora il mistero del perché hanno smesso con la storyline dell'Hacker. Cioè, o vuoi riparare adesso agli errori fatti perché ti sei accorto che il debutto della Retribution è stato un mezzo casino senza senso e quindi hai tirato fuori la vecchia storyline che era molto interessante e stava iniziando a funzionare, che poi è stata interrotta per qualche strano motivo, e quindi dici ok, facciamo finta di avere fatto una cosa a lungo termine senza apparente senso perché così risultiamo fighi e ci stanno riuscendo secondo me, però troviamo un punto d'incontro dai. E comunque benvenga, benvenga questa cosa, benvenga l'area di novità e benvengano puntate simili all'ultima dello show rosso perché mi è piaciuta molto, ma in tutto ciò Raw Underground è durato veramente tre settimane? Quattro? No dai, però l'ha menzionato, almeno quello, non l'ha fatto sparire nel nulla da un momento all'altro. Strom ha detto Raw Underground non c'è più, voglio un match unsanctioned, Rissa a destra manca, finito per Double Contout contro Keith Lindt. Ok, tralasciamo, tralasciamo. Vabbè ragazzi, anche per questo video è tutto, vi ringrazio di essere passati e come al solito dal vostro Certified Why un grosso saluto, un grosso ci rivediamo presto, e ciao... Ciao! Grazie a tutti!